eccoci in cima alla figlia è alta 2765 di fronte a noi c'è l'Uter 2009 ma è meglio farlo in primavera e ci portiamo verso l'ingadina ecco lì abbiamo una bellissima scelta un po' difficile che è Blasun l'album a pass e di fronte a noi il vero il Kipitzketsch 2417 e lì il Belvai e il Griaschul alpinistiche che abbiamo fatto circa un paio di settimane fa fino ad andare verso la bassa ingadina dove vediamo il Pizzuel tra l'abinina un po' difficile 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 Grazie a tutti.